Castellana un semplice incidente di percorso? Ce l'auguriamo tutti, noi per primi, noi intendo io ma anche i giocatori ne abbiamo parlato e questo deve essere l'obiettivo, è chiaro che non è che quando si decide poi sempre le cose vanno come si vuole se fosse così sicuramente avremmo fatto una partita diversa a Castellana perché i propositi c'erano tutti però purtroppo non ci siamo riusciti, abbiamo iniziato non bene la partita in attacco e in battuta e dopo questo ha condizionato il proseguo di tutta la partita e probabilmente ha dato anche alla squadra avversaria la forza di spingere, di trovare le sicurezze che fino a domenica non aveva ancora trovato in campionato. Comunque è sempre una donna calipo che rimane lì nelle parti alte della classifica? Sì, la classifica dice questo, noi insisto, insistevo anche quando eravamo secondi, continuo a insistere e insisterò sempre nel senso noi dobbiamo pensare a cercare di sviluppare il miglior gioco possibile per noi e poi la classifica viene di conseguenza e quindi adesso è necessario che ritroviamo la fiducia nel nostro gioco e nelle cose che ci hanno fatto giocare in un certo modo fino a domenica. Domenica è un'occasione di riscatto e arriva a San Giustino, che tipo di squadra ci troveremo di fronte? È una squadra che scende in campo tutte le domeniche fino ad oggi, è scesa in campo con grandissima aggressività a prescindere dal sestetto con cui si è presentata sul parquet e quindi ci aspettiamo una squadra che venga qua con l'idea di portarsi a casa la vittoria e dovremmo essere bravi a mettere in campo anche noi la stessa volontà, la stessa capacità di stare lì quando l'avversario ti tiene botta e alla fine portarci a casa la vittoria.